Daniele Semenzato Io sono qua per dare una mano a tutti i miei compagni, a me stesso, a Bassano e cercare di salvarci per mantenere la categoria Il tuo primo allenamento oggi come hai trovato? Gruppo, allenatore e società? Il gruppo è sano di giovani, il mister è un bravo mister e cercheremo di fare il nostro meglio Arrivi in seconda divisione dove il campionato è più duro di sempre, ci sarà una grande battaglia con la nuova riforma del calcio Quindi quest'anno ci sarà veramente battaglia ogni domenica È una bella sfida perché quest'anno ci salvano i nove e i nove retrocedono, quindi è dura, è una bella sfida e è più divertente così Parliamo un po' delle tue caratteristiche, tu sei un terzino destro, sappiamo, ami correre sulla fascia o preferisci più difendere in fase difensiva? No, no, mi piace molto andare in attacco, diciamo che difendere poco, attaccare tanto Quindi giusto per questo modo, ho visto che il ministro Petrone conta molto sulle fasce, quindi sei un giocatore adatto a questo tipo di ruolo Speriamo Bene, buca al lupo e benvenuto a Bassano Crepi, grazie tanto Grazie a tutti